Mi è stato detto che mi prenderanno in braccio, mi lanceranno per aria, mi spaccherò tutte le osa, sinceramente faccio così, oppure che mi investiranno con la macchina al mio fidanzato. Dopo mesi di offese sul suo canale YouTube, Ilaria Bidini, giovane retina affetta da osteogenesi imperfetta, adesso è stata anche minacciata. Il suo persecutore, utilizzando un fantomatico nickname Paolo Rossini, si scaglia contro Ilaria offendendola e prendendola in giro per la sua disabilità. Anche quando esco un po' di paura c'è. Già due le denunce presentate alla polizia postale di Arezzo è una querela contro ignoti. Nonostante le sue battaglie però Ilaria non è ancora riuscita ad inchiodare il responsabile. La sua vicenda ha fatto il giro del web e alla fine è il prefetto di Arezzo a volerla conoscere per rassicurarla in merito all'impegno delle forze dell'ordine a retine. Mi ha detto che mi dà la massima disponibilità, che parlerà con il questore e cercheranno anche loro di sentire la polizia postale e di intercedere un po'. Io comunque la ringrazio per la disponibilità che mi ha dato e spero che si faccia luce su questa faccenda. Perché io magari posso ignorare una volta, posso ignorare due volte, però poi diventa oltre che un peso psicologico anche a livello fisico. Penso che questa persona vada fermata perché quello che può fare a me lo può fare anche a chiunque altro, anche a una ragazzina per esempio. Penso che questa persona vada fermata perché la mia voce è un po' di intercedere.